Giacomo Ciriello, il 18enne che uccisa Lucignano con un colpo di fucile al volto, il padre lascia il carcere di Arezzo per essere trasferito in una casa famiglia in provincia di Prato. Il giovane si trovava nella casa circondariale di San Benedetto dalla notte dell'omicidio, quella tra il 26 e il 27 febbraio, quando imbracciò il fucile ed esplose due colpi contro il padre Raffaele Ciriello, fabbro di 51 anni, sulla veranda della casa colonica a qualche chilometro dal centro di Lucignano. Il giovane subito dopo l'omicidio chiamò i carabinieri e si costituì. Adesso è stata accolta dal GIP di Arezzo Anna Maria Loprete la richiesta avanzata dal legale del ragazzo, l'avvocato Stefano Del Corto e per Giacomo si sono così aperte le porte del carcere. Nonostante l'accusa sostenuta dal PM, Laura Taddei ritenesse adeguata per Giacomo la custodia cautelare in carcere. Il giovane è stato così trasferito prima di Pasqua in una casa famiglia in provincia di Prato dove le sue condizioni vengono costantemente monitorate. Giacomo ha infatti seguito da psicologi e curato come ritenuto idoneo per la sua condizione dal giudice Anna Maria Loprete.